Il principe William è riuscito a mantenere segreta la sua relazione con Kate Middleton per quasi un anno. Ma una vacanza in famiglia ha portato la futura duchessa di Cambridge sotto i riflettori quando il principe William si rese conto di provare sentimenti romantici per la sua buona amica Kate Middleton. Era ben consapevole che qualsiasi potenziale relazione avrebbe cambiato la sua vita per sempre. La coppia si è incontrata quando entrambi studiavano all'università di St. Andrews in Scozia, che hanno rivisitato questa settimana, e sono diventati amici prima che sbocciassero le storie d'amore. Punto punto. Ma uscire con il futuro Ray metterebbe Kate sotto i riflettori reali e la renderebbe ancora più soggetta al controllo del pubblico e dei media. Quindi, non sorprende che Wills volesse mantenere segreta la sua nuova ragazza il più a lungo possibile per dare loro il tempo di capire quanto fossero seri l'uno con l'altro. E sono riusciti a tenere le cose nascoste per quasi un anno, con la loro relazione che, secondo quanto riferito, è iniziata nel 2003 ma è rimasta segreta fino al 2004. Tuttavia, la storia è scoppiata quando Kate si è unita a William per una vacanza sugli sci in famiglia e la coppia è stata avvistata insieme sulle piste. Le foto sono apparse sui giornali britannici il giorno seguente e, secondo quanto riferito, William era furioso. Parlando nel documentario di Channel 5 William and Kate, Too Good To Be True, Rebecca England, editore reale del Daily Mail, ha dichiarato, sfortunatamente per loro, un fotografo paparazzo ha scattato foto di William e Kate chiaramente molto vicini allo skillift insieme. Un tabloid rosso in alto lo ha tagliato su tutta la loro prima pagina. William era furioso. Ed era anche sinceramente preoccupato per Kate e la sua famiglia per ciò che questo avrebbe significato per loro. Durante l'intervista, Rebecca ha anche fatto riferimento alle voci secondo cui la mamma di Kate, Carol Middleton, aveva cercato di far incontrare sua figlia con il principe. Ha detto. All'epoca c'erano molte voci in giro che Carol avrebbe potuto cercare di orchestrare la relazione assicurandosi che sua figlia andasse a S.T. Andrews. Si diceva che Kate avesse un poster di William sul muro della sua scuola, il Marlboro College.